Giovani di ritorno da esperienze d'incontro nel territorio del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano e nei prestigiosi territori riconosciuti dal MAB UNESCO, tra cui una parte della Garfagnana. Si sono incontrati presso i suggestivi ambienti del Convento di San Giuseppe a Castelnuovo Garfagnana e partecipanti al workshop per proseguire il percorso d'incontro e di formazione sul tema consapevolezza, identità e possibilità di sviluppo su questi territori. All'incontro hanno partecipato soprattutto giovani che hanno seguito tutti gli incontri ma anche operatori del settore turistico, oltre ai vertici del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano, tra cui il direttore Giuseppe Vignali, il presidente Fausto Giovannelli, il sindaco di Villa Collemandina, Dorino Tamagnini e il vicepresidente Pier Romano Mariani. Sì, questo incontro di oggi è appunto la restituzione di un incontro che c'è stato nel Delta del Po, l'area MAB del Delta del Po, dove si è celebrato il forum mondiale dei giovani appartenenti all'area MAB UNESCO e i ragazzi che provengono dai territori della MAB UNESCO dell'Appennino Tosco Emiliano stanno facendo il giro dei territori da dove provengono per riportare le loro esperienze e far conoscere più nel dettaglio quella che è la finalità della MAB. Riscontriamo sempre più l'attenzione all'apprezzamento di far parte di una cosa unica perché appunto in Italia non sono moltissime e si basa soprattutto sulle eccellenze naturalistiche, biologiche e culturali che sono presenti nei nostri territori e soprattutto quello che è fondamentale, quello che l'uomo è riuscito a mantenere in equilibrio in questi ambienti che noi conosciamo benissimo e questo è un valore aggiunto inestimabile.